e wild boys welcome back una breve riassunto della situazione a livello cripto negli ultimi 24 ore c'è stato una forte crescita del cripto in generale bitcoin ed ethereum su tutte come mai perché sono usciti i dati sull'inflazione americana e questi dati si sono rivelati migliori del previsto è volato anche il nasdaq l'economia tradizionale tanto da notare come la sec vuole che gli edge fund dichiarino dichiarino la loro esposizione alle cripto valute la sec ha proposto una nuova regola che richiederà ai grandi edge fund di segnalare la loro esposizione alle cripto valute attraverso un documento noto come form ptf ora un approfondimento su questi dati usciti della fede la riduzione del consumer price index prendendo spunto da questo tweet di alfi innanzitutto va detto che era abbastanza nell'area visto che i prezzi del petrolio e del gas in queste ultime settimane sono scesi si sa che il basket dei dei beni attraverso i quali viene calcolata l'inflazione contiene appunto anche questi indicatori questo quello che ci dice alfa di interessante è che quello che occorre guardare è la il trend degli ultimi sei mesi e la cosa interessante che da la da giugno a luglio c'è stato una netta diminuzione della dell'inflazione come non si vedeva dal dirittura dall'inizio del 1980 ora cosa è dovuto questo questo diminuzione dell'inflazione ora ce lo dice alfi innanzitutto però quello che va osservato dice è la 6 month moving average ossia la media media a sei mesi di come si sta muovendo appunto l'inflazione e vediamo che è vero che ci sta avuto ultimamente un leggero calo ma siamo in ogni caso altamente sopra la media quindi fino che questi dati non scenderanno la media sei mesi questo in arancione la linea arancione non scenderà vicino allo 0 a 0,2 attualmente siamo vicino al 0,5 ancora questo non ci indica una inversione di tendenza sul lungo periodo ora da che cosa è composta questa l'inflazione in generale o i dati attraverso i quali vengono presi come mai c'è stato questo calo quali sono i settori che hanno contribuito di più all'inversione qui vediamo nella lingua riga blu il l'energia energia che i costi dell'energia sono quelli che stanno contribuendo maggiormente ma hanno anche avuto il calo un calo consistente nel mese di luglio la linea bianca invece sono gli affitti che invece stanno aumentando anche se invece i prezzi delle case stanno diminuendo visto che stanno aumentando i tassi di interesse in america quindi diventa meno costo conveniente comprare le case perché gli auguri gli affitti di suati mutui aumentano quindi meno gente che li compra prezzi delle case scendono ma gli affitti stanno sono in aumento mentre il le commodities verde leggera diminuzione e macchine usate in anche in diminuzione quello che sono sta un po aumentando è il oltre agli affitti anche i prezzi del cibo questi stanno invece spingendo verso l'alto l'inflazione qui appunto anche un grafico degli affitti come la media degli ultimi sei mesi sono in aumento qui stiamo parlando di dati americani e se prendiamo proprio il questa tabella che ci indica quali settori contribuiscono di più all'inflazione vediamo come sceltero sia gli affitti e il cibo sono ai primi due posti costi dell'alimentazione prodotti food and beverage e appunto affitti per vedere un'inversione di tendenza occorre una diminuzione dei prezzi soprattutto per quanto riguarda l'energia le commodities appunto per quanto riguarda il cibo e e poi ci vuole anche un una decelerazione della dell'inflazione a livello core cioè senza cioè core sarebbe l'inflazione senza escluso l'energia e le commodities ora questo era un pochettino una sintesi di quello che sta succedendo un'interpretazione alla dei dati che sono usciti sul consumer price index intanto ricordo di seguirci nella nostra community su su youtube telegram discord qui trovate su twitter e the wildcard er tutti i riferimenti la prendo qui da spunto dal profilo twitter per discutere un pochettino degli avvenimenti più importanti degli ultimi giorni innanzitutto ancora di più alla luce di quello che sta succedendo negli ultimi giorni con la censura il ban e il freeze da parte di usdc alcuni conti account su collegati alla piattaforma di tornado cash ritorna preposentemente il discorso sulle stable coin e sul trilemma che va ancora trovato che attualmente non c'è ossia quello di avere delle stable coin stabili sì che mantengano il peg che abbiano efficienza di capitale ossia si incontri domanda e offerta ma allo stesso tempo che siano decentralizzati ossia che sono colletare calcol lateralizzate da un asset decentralizzato e attualmente non abbiamo nessuna di quelle del stable coin attuale risponde a questi criteri abbiamo usdc usdt usd che sono sì collateralizzate 1 a 1 ma centralizzate dai e meme sono o usdc sono over collateralizzate però anche loro per esempio dai anche over collateralizzata con usdc che a sua volta è centralizzato quindi ritorniamo alla stesso idem usdc ritorniamo sempre alla base del problema oppure abbiamo avuto in passato quelle under collateralized algoritmi come usd che sono miseramente fallite ne ho parlato tra l'altro nel video sul canale quale futuro perde stable coin algoritmi che ho riassunto un pochettino tutte le problematiche che ci sono attualmente ora a livello di stable coin e quale potrebbe essere il futuro con una proposta che come vedere qua nel disegno una stable coin ossia una stable coin legata alla energia questo è uno studio attualmente in corso che è una stable coin bi collateralized via fully decentralized physical asset come per esempio l'energia qui c'è uno studio ancora in corso che qui potete leggere vi lascio il link in descrizione da parte di alcuni scienziati in corso questo progetto qualcun altro come res su twitter propone invece una stable coin che affinché possa soddisfare i requisiti del trilemma secondo lui la soluzione è di realizzare praticamente una stable coin coperta back del da dei contratti derivati su bitcoin e dei tiro in pratica dei shorti copertura quindi se bitcoin sale cioè ci si espone a delle posizioni tipo delta neutral per tenere il peg questo c'è un suo tweet che va tutto nei dettagli abbastanza lungo è un po entra anche un po complicato su alcuni punti se interessa potete approfondire comunque attualmente è la si sta discutendo su questo stable coin dilemma il giorno che si riuscirà a risolvere il dilemma delle stable coin ancora più che il dilemma del trilemma del trilemma del scalabilità della block chain lì potremmo dire che finalmente potremmo avremmo trovato una defai stabile e funzionante tra l'altro sempre legato al discorso stable coin quello che anche importante sapere che per esempio capire quali stable coin attualmente come gli usd si sono native state utilizzando a livello nativo state utilizzando la versione bridged perché bridged usd si is not usd si cosa significa qui prendo proprio dalla pagina ufficiale di circle che è l'emittente di usd si ci sono alcune chain che supportano i native usd si e qui vedete che sono algorand avalanche tyrium flow ed era solana stella retron e invece ci sono alcune chain come ad esempio polygon che non supporta i nativi usd si ma il bridge usd si questo cosa significa che se il bridge su polygon perché praticamente tutti gli usd si appartengono a un bridge polygon bridge viene hackerato abbiamo visto quante volte in passato è successo con dei bridge dove avete degli usd si su polygon praticamente questi quegli usd si non varranno più niente è importante che sappiate i rischi che andate a correre se per esempio vi esponete a una stable coin come usd si ma non a livello di block chain nativa ma a livello di bridge questo è un aspetto molto importante di cui se ne parla sempre molto poco poi un'altra notizia importante di recente hot bit sta sospeso momentaneamente un exchange che hanno sospeso momentaneamente le proprie operazioni sul proprio sito tra poche ore andrà in onda nella notte tra mercoledì 10 giovedì 11 agosto il merge sulla testnet girly di tirano è già un primo step per vedere se tutto andrà bene vendremo in quei prossimi giorni come i risultati c'è stato un hack su curve finance ora è stato risolto è stato risolto è stato un problema di domain name server alla base il qui anche ritornando al discorso delle stable coin il problema che per esempio chris black dice che secondo lui e sarà molto probabile che per esempio un giorno usd si richiederà a tutti quanti di fare il che vuoi sì altrimenti i propri usd si verranno frizzati questa è una previsione che fa lui e quindi si ritorna sempre al problema del trilemma delle stable coin riguardo al merge di di ethereum e ora al fatto che i miner forcheranno la nuova chain quello che ho scritto qui sul tweet che si parla ora dell'impossibile airdrop di nuovi ethereum proof of work se ci sarà questo fork io mi sono informato e il praticamente chi beneficerà di questo airdrop saranno soprattutto i bot se voi siete in grado di programmare un bot che nel primo secondo blocco massimo riesce a subito andare a vendere da un pare gli ethereum proof of work della nuova chain forkata direttamente su qualche exchange o dex riuscirete a ottenere dei profitti altrimenti ci sarà una grandissima probabilità che poi non varranno più niente mi scrive dice ma riusciremo a venderli del fai si riusciremo a venderli ma non varranno poi quasi più niente se appunto non si agisce subito a livello di bot statistica interessante quindi fa vedere farmer brown che la giappone in crisi economica ma perché perché la popolazione sta invecchiando e l'invecchiamento demografico è anche un problema che si sta riscontrando nel resto dell'europa e nel suo tweet approfondisce proprio questi aspetti c'è sempre shadi decorator che rituita i migliori tweet del giorno sempre da seguire assolutamente intanto sta crollando il prezzo delle land nel metaverso approfondisce qui coin telegraph qui di nuovo ritorno sul discorso dei bridge su usdc e le problematiche nel non usare la usare un diciamo la usdc a livello nativo ma la stessa cosa per completare il discorso vale per busd perché i busd di subina smart chain non sono i busd originali supportati dall'emittente che è l'emittente di busd e paxos paxos riconosce o supporta solo la versione r situanti di busd che in realtà però è su e tir con quindi voi quando andate a tenere le vostre ste volcone di busd su bainans realtà vi state affidando fidando che bainans livelle costo possa custodire in modo affidabile completamente affidabile non c'è nessuna garanzia da parte dell'emittente ossia da parte di paxos ora questo era più o meno tutto per il video di oggi con le notizie più importanti dal da twitter e volevo soltanto chiudere con un'ultima osservazione ossia il discorso che ecco qui sono ancora sul mio video di enric dao che c'è consigliere che mi ringrazia volo semplicemente specificare ho parlato qui di enric dao poi nel video mi ero dimenticato di dirlo io personalmente ho investito sin enric dao però non ho ricevuto niente dai dai da un founder del progetto quindi non era lo scopo del video non era quello di dire investite ma semplicemente di approfondire voi l'argomento questo era tutto semplicemente questo chiarimento che includo con un tweet sempre interessante di di noma sulla chart di bitcoin soprattutto guardate qui in basso il rsa i relativi strain index factor vedete come per chi non lo sapesse quando si avvicina sopra i livelli di 70 quindi quando è alto vuol dire che siamo in over comprato perciò sarà molto probabilmente poi tenderà a scendere il prezzo così ha fatto praticamente ripetutamente in passato ogni volta che l'rsa era vicino i livelli più alti poi c'è stato un dump del prezzo ora ci stiamo avvicinando a di nuovo un rsa è molto alto perciò il titolo del nome wallace dump quando arriveremo ancora a livelli che si avvicinano questa linea verde è molto probabile non è certamente garantito però c'è un'alta probabilità che si assisterà a un ulteriore dump non dimentichiamoci anche il rilascio dei bitcoin di su mount gox che dovrebbero avvenire nelle prossime settimane quindi tutto questo unito anche ai valori di rsi ci fa stare molto cauti a livello di mercato quindi questo era tutto per il video di oggi se avete apprezzato come al solito vi chiedo di mettere un like iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto condividere video anche nella vostra piccola cerchia dei social anche se avete poche seguito non importa mi aiutate a far crescere il canale noi ci vediamo prossimo video